Buongiorno ragazzi, in questa video lezione cercheremo insieme di capire cosa accadde in Europa dopo i moti del 48. Partiamo dalla Francia. Napoleone III viene eletto presidente della Repubblica. Dopo tre anni non si dimostra molto democratico e scioglie il Parlamento, dando inizio a una dittatura. Come periodo la sua dittatura viene anche definita come secondo impero, perché si fa incoronare imperatore. Da questo momento in Francia comincia un decollo industriale, perché Napoleone III appalta i lavori pubblici, pensate alla costruzione di strade, ferrovie, eccetera, a delle imprese nazionali, dando quindi lavoro a moltissime persone. Poi in Egitto comincia anche lo scavo del canale di Suez per aumentare i commerci. Inoltre la Francia risplende anche sul piano internazionale, perché nel 1855 e 1867 in Francia si tengono le esposizioni internazionali. Napoleone III fonda anche moltissimi ospizi e orfanotrofi nei confronti quindi della popolazione più povera e soprattutto dei bambini. Non si dimostra molto aperto al dissenso perché reprime brutalmente gli scioperi degli operai che chiedevano migliori condizioni di vita. In Austria, nello stesso anno, sale al trono Francesco Giuseppe, che nel 49 concede la Costituzione al popolo. Due anni dopo però l'abolisce ed ha inizio a un governo assolutista. Assolutista ricordiamoci che vuol dire che il sovrano mantiene nelle sue mani tutti e tre i poteri legislativo, giudiziario, esecutivo. Quindi vedete che in Francia e in Austria accadono episodi simili. Francesco Giuseppe ha a disposizione un fortissimo esercito, un grande e fedele apparato burocratico e l'appoggio della Chiesa. Nel 67 crea il sistema della duplice monarchia. Cosa fa? Divide l'impero austriaco in due zone, Austria e Ungheria. Ogni zona ha il suo governo, ha il suo Parlamento, ma risponde solamente a un sovrano, che è lui. All'interno di questi territori però non c'è grande unità. Infatti diversi gruppi etnici vogliono l'indipendenza, come gli slavi e gli italiani. Passiamo ora alla Russia e alla guerra di Crimea. In Russia manca la classe sociale della borghesia, cioè abbiamo un grande vuoto tra una nobiltà e l'aristocrazia e invece i contadini. La forza lavoro. L'industria russa è poco sviluppata, infatti è un paese a trazione agricola. La Russia in questi periodi, quindi nella prima metà dell'Ottocento, ha due obiettivi. Espandersi verso il Caucaso per controllare il Mar Nero ed espandersi nei Balcani per accedere al Mar Mediterraneo. Tra il 1853 e il 1855 scoppia la guerra di Crimea. La Crimea è una penisola che fino a pochi anni fa è appartenuta al territorio dell'Ucraina, perché è stata donata dalla Russia all'Ucraina negli anni 50. Poi la Russia la sostanzialmente invasa e un referendum ha sancito l'appartenenza della Crimea alla Russia. In Crimea però risiedono anche delle persone di etnia ucraina. Cosa accade? Che la Russia muove guerra contro i turchi, la Gran Bretagna e la Francia però intervergono con i turchi e fermano i russi. In questa guerra di Crimea prende parte anche l'Italia sotto l'impulso di Cavour. Anche Cavour infatti siede al tavolo delle trattative alla pace di Parigi del 56 che stabilisce il Mar Nero come un territorio neutrale. Pochi anni dopo nel 61 diventa Zar Alessandro II. Zar vuol dire imperatore della Russia. Alessandro abolisce la servitù della Gleba liberando quindi 20 milioni di servi e poi cerca di attuare una riforma agraria che fallisce. Infatti Alessandro voleva vendere le terre ai contadini ma in realtà pochi contadini potevano acquistarle perché erano poverissimi. Quindi di fatto i grandi proprietari terrieri mantengono i privilegi che avevano anche prima. Nell'81 cresce il malcontento in Russia, ci sono molte proteste e Alessandro muore in un attentato. In questo contesto si verifica l'ascesa della Prussia. A metà del XIX secolo la Prussia comincia ad avere una crescita industriale molto forte, la sua capitale era Berlino, non a caso, e nel 59 diventa re Guglielmo I re di Prussia che nomina cancelliere Bismarck, Otto von Bismarck. Bismarck era un membro degli Junker ovvero l'aristocrazia tedesca. Che cosa fa Bismarck che aveva quindi il potere esecutivo? Crea un esercito permanente, limita la libertà di opinione, esalta il nazionalismo tedesco, ovvero il credere che la propria nazione abbia un ruolo decisivo nel contesto europeo e poi attua Bismarck una politica estera aggressiva e militarista per unificare la Germania. Militarista vuol dire che utilizza l'esercito. Nel 66 tra Prussia e Austria avviene la battaglia di Sadova in Repubblica Ceca. La Prussia costringe l'Austria alla resa e viene firmata la pace di Praga. Perché? Perché l'Austria presiedeva, cioè era lo stato più importante, dell'associazione dei vari stati tedeschi. Quindi Bismarck aveva capito che per unificare tutti gli stati tedeschi doveva sconfiggere quello più importante, cioè l'Austria. Bene, dopo la pace di Praga viene sciolta la confederazione germanica, quindi Bismarck ottiene quello che si era prefissato e tra le altre cose Venezia viene ceduta al regno d'Italia. A questo punto le due principali, due tra le principali potenze in Europa sono la Francia e la Prussia. Si scontreranno. Spoiler. Nel 1870 la Francia dichiaro guerra la Prussia ma viene sconfitta e Napoleone III, l'imperatore, viene fatto prigioniero. Quindi finisce il secondo impero di Napoleone III e viene proclamata la terza repubblica. Vedete come impero e repubblica si alternino. Il 71 è un anno molto importante perché in gennaio a Versailles i principi tedeschi, quindi in Francia fateci caso, proclamano la nascita dell'impero germanico e incoronano Guglielmo I Kaiser. Impero germanico tradotto sarebbe secondo Reich, il primo è quello di Ottone I del 962 e il terzo sarà quello di Hitler. Kaiser significa sostanzialmente imperatore. Quindi Guglielmo I diventa Kaiser e Bismarck sarà il cancelliere. Nel marzo, quindi due soli mesi dopo, il popolo di Parigi insorge contro il nuovo governo repubblicano perché questo governo repubblicano che aveva sostituito Napoleone III, che era stato fatto prigioniero dai prussiani, eccetera. Ebbene, questo governo repubblicano era colpevole di aver accettato dalla Prussia delle condizioni di pace troppo dure. Quindi il popolo insorge. Viene proclamata la Comune di Parigi, che è il nome di questo governo rivoluzionario guidato da un gruppo di socialisti. Questo governo attua delle riforme come l'istruzione obbligatoria gratuita, la separazione tra Stato e Chiesa e la gestione delle fabbriche che viene affidata a delle cooperative operaie, quindi a dei gruppi di operai. Bene, il governo legittimo della Francia reagisce, non può tollerare che Parigi si autogoverni e quindi a maggio si scatena la settimana di sangue, con cui il governo repubblicano riprende il controllo della città, uccidendo 20.000 parigini e deportandone 10.000 in una colonia penale in Oceania. Quindi questa è la triste fine della Comune di Parigi. Siamo alla fine e andiamo in Gran Bretagna. Il regno della Regina Vittoria dura moltissimo, dal 1937 al 1901. È un'epoca di progresso economico, di molte riforme, perché viene abolito il lavoro minorile sotto i 9 anni, certo direte voi a 10 anni lavoravano, eh sì, e viene garantita l'istruzione elementare statale, insieme al diritto di voto ai ceti media e alla classe operaia. In questo periodo l'Inghilterra è il primato internazionale nei commerci coloniali, perché a colonie sparse un po' il tutto il mondo. Deve però risolvere la questione irlandese, che è un grande problema, perché l'Irlanda è cattolica, ci ricordiamo che l'Inghilterra invece era di religione anglicana. Bene, l'Irlanda vuole l'indipendenza dall'Inghilterra anglicana, perché dal 1800 non aveva un Parlamento autonomo, quindi per ogni decisione dipendeva dall'Inghilterra. In questo periodo in Irlanda aumenta moltissimo anche la povertà a causa di una carestia, quindi moltissimi irlandesi migrano negli Stati Uniti. Ci sono però tante proteste in Irlanda e il governo inglese si vede costretto ad abolire la riscossione delle decime da parte della chiesa anglicana nel territorio irlandese. In questo periodo nascono anche associazioni cattoliche pacifiche. E abbiamo chiuso. Alla prossima!